Le Iene, Teo Mammucari lascia il programma, ecco prenderà il suo posto accanto a Belen Rodriguez. Non è passata e inosservata l'assenza di Teo Mammucari nel corso dell'ultima puntata delle Iene, lo show satirico di Davide Parenti. Belen Rodriguez, rimasta da sola la conduzione, non ha fatto alcun riferimento al forfè del conduttore, facendo insospettire il pubblico da casa. Stando ad alcune indiscrezioni trappelate da Dago Spia, dietro l'assenza del conduttore ci sarebbe stata una furiosa lite avvenuta con gli autori. Pochi minuti fa, la produzione del programma ha diramato un comunicato ufficiale in cui annuncia il cambio della guardia alle Iene. Fuori Teo Mammucari per altri impegni professionali e dentro Max Angioni, già ospite fisso del programma. L'attore affiancherà la showgirl argentina per le prossime puntate. Il tempismo in cui è stato pubblicato il comunicato ha fatto pensare che dietro il suo addio si cieli davvero una brusca rottura. a tutti i nostri ammucari. Allora, questa è una brusca. Allora, questa è una brusca. Allora, questa è una brusca che fa in un'attrolla. Allora, questa è una brusca. Allora, questa è una brusca. Grazie a tutti.